Ciao ragazzi, io sono Sergio e sto andando a votare per questo referendum costituzionale quindi accompagnatemi a votare, tra l'altro devo votare nella mia vecchia scuola delle medie e poi dopo aver votato vado al Valentino che devo dirvi alcune cos'è, alcune cosucce, devo parlare di alcune cose insieme a voi quindi adesso andiamo a votare e poi dopo ci vediamo al Valentino è così tra l'altro non so ancora cosa votare, non vi dirò di voto però non lo so ancora ci vediamo quando sono lì, ciao rieccoci io, allora ho votato e così anche questa è fatta allora adesso andiamo al Valentino, al parco, facciamo un giretto e poi torno ho votato la mia vecchia scuola perché lì è dove si vota allora volevo dirvi alcune cose legate ai due video che dovevano uscire sabato e domenica quindi cioè che uscirà solo domenica questo video perché uscirà stasera alle 5 e mezza cosa è successo? ho perso video io li avevo salvati su youtube e prima di metterli su youtube ho fatto una pulizia del mio pc li ho cancellati e quindi li ho cancellati per sbaglio i due filmati che dovevano uscire sabato e domenica e quindi la situa è questa, io ho perso i video quindi non ho potuto caricare i video a mio discorso, è colpa mia perché sono io che ho sbagliato allora è questa più o meno la situazione poi mi sono innamorato e ho trovato una bellissima fanciulla puoi stare bene quindi ieri sono stato con questa bellissima fanciulla ad Asti e quindi adesso se usciranno pochi video e sapete anche perché oltre il lavoro e la ricerca del lavoro ho anche la fanciulla a cui badare, a cui pensare quindi sono contento così, va benissimo così adesso andiamo un po' al parco e così che bella giornata fa ancora caldo però e dovrebbe essere autunno tra poco dovrebbe essere autunno eh già è un po' al parco Grazie a tutti 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 Poi ho avvicinato l'Apple Watch che aveva la carta dentro è andata Misteri Bene, io volevo trovare un posto perché era chiuso ovviamente per covid e adesso invece l'hanno aperto e tutto quasi tutto quasi tornato alla normalità quasi quasi in pentru, oppure everybody bene questo video si conclude qui così e io vado a casa questo video si conclude noi ci vediamo alla prossima settimana ciao